Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, in A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola in direzione Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla FIPILI in direzione Firenze coda per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, in A1 personale su strada tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma, sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Montrigioni e Siena in direzione Siena, sulla statale due casse a tratto chiuso per lavori al Ponte del Paio tra Radicofani e Abbadia San Salvatore, sulla statale 67 Tosco-Romagnola tratto chiuso tra Abbadia Ripoli e Le Sieci per lavori. Oversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!